Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi faremo una reazione al proprio taglia Appena uscito Ce l'ho fatta adentrare Vabbè, iniziamo Il Mandaloriano Se magari si carica Io comunque ho già Già 6 livelli Non si carica Ok Lui Che a me piace Quindi lo prenderò la passata Musica di Galactus Stendardo Carino, V-Bucks Emote di Yoga E lui Poi questa schermata che me la sono subito messa Poi Emote di Yoga Il bambino Bellissimo E' animata poi Poi Bello però Non so in game se potrebbe essermi d'aiuto Livrea carina E' anche gratis Schermata Zainetto Bellissimo Bellissimo V-Bucks Poi Emote Ok, normale La scena a rosa Penso Coperto per lo schermo Ries Ries Carino Nel senso Ha molte variabili Allora poi Il balletto Questo può essere Io voglio i balletti Che bello Poi Questo Spry Bello Piccone Carino Ma non troppo Vabbè Deltaplano Che ci può stare Ci può stare Ma non così tanto Lei Un'altra versione Poi Ecco la skin più troll Questi Il Poi Ecco Si può Vabbè Non lo sapevo mai Questo Che è Questo Come si chiama Vabbè Vabbè Poi c'è questo Che è carino E' un bellissimo piccolo Poi I bugs Shia Non la vedo Ma si sta Si si vede un po' Non mi piacerebbe in gioco Così E' bella La skin Non la userò mai Ma è bellissima Poi Il Deltaplano Stile Vecchio Poi il balletto Lo standard Poi Balletto Che bello Sto balletto Me lo prendo subito Appena arrivo qua Mi scioppo Su taglia Ragazzi Anzi Lo scioppo Insieme a voi Alla fine Belli Bello Mi piace Schermata Lui è un cattivo Un lato Penso O un buono Vabbè Schermata Ci sta Con i baffi Ma Con il cappello E i baffi Poi lei Che ci sta Non mi piace troppo Staschini Belli questi Questa Mi piace un sacco Perché lei E' praticamente Aquila Squala e serpente Poi Ivrea Non mi piace Non mi piace Così così Poi c'è lo stile Medusa Di Bax Poi c'è Lo stile Poi non lo so Tipo qua c'è qualcosa Tipo non lo so Narvalo Un altro piccone Ma qua Infiniti piccone E qua si vede Praticamente lo squalo E l'aquila E qui C'è la versione squala No non mi piace Per niente Così no Ti prego Poi C'è l'aquila Penso Basso Dai Io basso Con lei basso Allora Poi Wolverine Perché si ferma Allora Spirit of the Guerrero Ci sta Invece questa Voi la vedrete male Ma io la vedo benissimo Mi spiace un sacco Questo backpack Non lo capisco Questa è la skin Che mi piace di meno Poi Il suo zainetto Che mi piace Poi Questo Pensavo che fosse meglio Queste sono Bellissime Io Sto adorando Troppo damarlo No Valletto Desideri Sudipendetta Io lo vedo meglio Ragazzi Voi non lo vedrete Però è cambiato la skin Spero che lo vedi Adesso Questo è stile È stile Come si chiamano Va bene Questo È stile Anima Questo Ci sono un po' troppe cose Non mi piace Tanto però No Deltaplano Bocciato Scia Carina Che però Mi copre tutto Lo schermo Così la skin Ci sta Però Livrea Bellissima No picconi Io non li capisco Questa è bella Poi Zainetto No Questa La fa diventare robot Voi vedrete male Ma io lo vedo Ok Che bello Bellissimo Poi Il gladiatore Questa Poi lo zainetto Bellissimo Questo zainetto Il menace Si chiama Senza un'armatura Un pezzo di armatura Le motte del primo I picconi Che adoro Poi Un altro pezzo di armatura Bella questa Livrea Poi Così Lo spray Questo che cos'è? È lo zainetto Che cos'è? Poi Ah tipo l'effetto Così Così Che mi piace molto di più Poi c'è lui così Ho saltato il balletto Poi qua Per l'ultimo C'è l'ultimo C'è questo così Questo così Che mi piace troppo È troppo bello È troppo bello Quelle moto me lo metterò per sempre E È Yoda Penso Sì È qua Se magari mi si carica Vabbè Yoda Non si vuole caricare Vabbè ormai Negli altri video Ok Eccolo Accordissimo Vabbè poi Un'altra parte Di lui Allora Queste saranno Le amplifiche stilistiche Che non ce ne importa molto Poi ci sono i punti di domanda E ora andiamo a vedere È l'arena Ora c'è il nuovo posto Visualizza e incarichi Ah qua ci sono le sfide XP Sono tipo delle sfide Ecco la nuova mappa ragazzi Guardate che Non mi piace troppo Ma ci sta Poi qua ci sono delle sfide Tipo per Tipo per Tutti i luoghi Dove ci sono quei tipo MTC Poi Competiti è sempre quello L'armaggetto è sempre quello Il negozio è sempre quello Poi è cambiato un po' Il V-box Più o meno Però ragazzi Ok Questo video finisce qui Iscrivetevi Mettete like E ciao Ci vediamo nel prossimo video E ci uscirà oggi Spero Ciao